Buongiorno, sono Gennaro Gelmino. Oggi vi parlerò della nascita dell'uomo sulla Terra e del funzionamento dei dischi volanti. I dischi volanti funzionano con energia antigravitazionale, funzionante con un circuito di mercurio in gasificazione e liquefazione. Trae energia, dischi volanti, appunto trae con energia per volare, da questo l'unonezio. Ve l'ho scritto perché è difficile la scrittura, insomma, l'unonezio. La vita dell'uomo sulla Terra. In principio, gli extraterrestri Anunnaki, provenienti appunto dal pianeta Nibiru, crearono la vita sulla Terra, anzi, già prima volevano abitare loro stabilmente, ma non potendoci vivere perché abituati a vivere in luoghi più umidi del nostro pianeta Terra, crearono allora un incrocio tra loro, gli extraterrestri Anunnaki, e una creatura terrestre. fu scelta, non furono scelti Gorilla, quindi si creò questo incrocio tra loro e Gorilla, da cui nacquero i giganti. Successivamente fu fatto un nuovo incrocio, crearono loro un nuovo incrocio tra appunto loro, gli extraterrestri Anunnaki, e gli scimpanzè, la scimmia, gli scimpanzè, da cui nacque l'uomo, siamo nati noi. E quindi questa è la parte scientifica di nuova divulgazione. Vi faccio vedere questo, il 14 aprile 2010 è il nuovo esposto che ho portato a Torino riguardante Nibiru. appunto è un interesse da 11 anni di Nibiru, di questi studi sui cambiamenti climatici, e questo è l'unico, l'ultimo, è visibile sui miei siti internet, denaragelmimi, ovvero blog.it e denaragelmimi, maxiblog.it. Il 2 dicembre 2009, sulla provincia di Varese, un nuovo articolo, è dedicato a un nuovo articolo, di cui però non condivido il titolo perché io sarei più propenso per un nuovo inizio, un'età del cambiamento sulla terra piuttosto che alla fine. Quindi un nuovo inizio, un cambiamento. E questo è l'articolo del 2 dicembre 2009, sulla provincia di Varese. Altre cose, mi è giunta nuovamente la quinta lettera da parte della Nasa, con priority A, priorità assoluta. Quindi tutto continua e sicuramente comunque il mio è un ottimo lavoro. Cioè nel senso le cose di Nibiru che porta avanti, chiaramente. Per ora è tutto, voglio che questo video sia divulgato liberamente. Ci sentiamo alla prossima. Saluto a tutti, arrivederci alla prossima.